Buongiorno a tutti, oggi ci ritroviamo a reggresso di San Nicola Cessia nel Laziano. Cambiamo il concetto di quattro campane e adesso ascolterò il monstruo per mezzogiorno. Qui frantempo a sedele, questo campanone, questa mezz'altro, mezz'anno e il suonello. Qui c'è un rosso finato perché non funziona più e quindi apprezzo da due altre campanelle. Guardate, ascoltate tutti, ciao! Buongiorno a tutti. 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 Grazie a tutti.